Non intravede il successore di Berlusconi? No, non intravedo nessun successore di Berlusconi perché non c'è il successore di Berlusconi. E non ci sarà. Berlusconi è unico, è stato un leader politico che ha dominato la scena politica per 25 anni e ancora in qualche modo la domina. Se voi andate a rivedere nella storia della Repubblica, non c'è mai stato un leader politico che sia stato a capo di un partito per 25 anni, che abbia rappresentato o la maggioranza o l'opposizione per 25 anni. Perché noi diciamo, va bene, ma c'erano dei personaggi storici come per esempio Fanfani, Andreotti, ma questi personaggi governavano per un anno, due anni, poi sparivano e si inabissavano. Il primo a non volere un'erede è Silvio Berlusconi perché non prevede erede Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è unico, si ritiene unico, ma non ha mai voluto costruire qualcuno a cui passare il testimone. Perché non prevede di passare il testimone? E come sono quelle figure storiche, importanti, che hanno tanto carisma, che non possono lasciare in eredità il carisma. Il carisma non si eredita, è una delle poche cose che non si lascia. Il carisma non si ha o non si ha.